Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Come vedete Daisy e Marlon sono rimasti qui belli assulani. Lei ha continuato a studiare un po' il boristeria ma pochissimo perché sono appena rientrata in gioco. In pratica avevo lasciato giusto lui a pescare e oltre ai vari pesci mi ha preso un tesoro, il cuore di Sulani, che io mi conserverò e che tramanderò nelle generazioni perché tanto poi arriverò a una generazione che viverà qui e che farà questa collezione quindi se mi capita di trovare qualcosa, ecco, glielo conservo. Poi mi ha pescato questa parte di aggiornamento, quell'argilla che mi sono rivenduta e va bene così. Adesso si sta avvicinando, sta tornando qui, ha fatto comunque una bella pesca e ho notato, ragazzi, queste sono cose rare, che c'è una bellissima festa. Me ne sono accorta perché stavo vedendo se il chioschetto qui era aperto per rimanere a cena e notavo palloncini, vedete, palloncini un po' in giro. Poi ho visto questi manifesti, mi sono girato e ho fatto, no, ma io questa festa non l'ho mai vista. Mi è capitato di vedere delle feste, sia soltanto il falò per la danza del fuoco che un'altra festa dove qui mettono i banchetti di cibo e di pesce. Questa volta invece, come vedete qui su tavoli, c'è la cava e ci sono proprio i pasti dell'isola, il banchetto di verdure delle isole, mentre da questa parte c'è il maiale kalua. Quindi sì, partecipiamo alla festa. Ah, ma lui sta venendo in barca? Vabbè. Partecipiamo alla festa. Lui adesso lo faccio anche rivestire. Eccolo qui. Ah, l'intanto mi stava continuando a fare erboristeria. Perfetto, famore. Ah, è finito di leggere? Ce ne andiamo un po' alla festa prima di tornare a casa? Ma direi proprio di sì. Cioè, approfittiamo, siamo qui. Quindi il gruppo già c'è. Andiamo ragazzi. E veniamo a goderci questa serata. Ah, Assulani, Dwayne, Dwayne, un altro sim che adoro. Insieme a Makoa, che tutti noi penso che adoriamo dal trailer di Vita sull'isola. Guardate questo signore quanto è bravo. Ma è, ma è Clemente Gio... Ma Bebo è vero. Bravo, complimenti. Ecco cosa fai nel tempo libero e soprattutto in estate. Abbiamo capito tutti. Comunque, aggiungi del compostibile. Allora lui assaggerà un maiale kalua, mentre lei un... Come si chiama? Il banchetto di verdure delle isole. Se non mi sbaglio, una volta assaggiato, potrà anche cucinarlo a casa. Ok. Vedete quanto adoro il fatto anche di circondarmi dei sim, in questo caso proprio di Sulani. Guardate anche nelle anni quanto è brava. Poi venite a... cioè chiacchierate tra voi due. No, dagli un bacettino sulla guancia, perché la mattina la vediamo stata un po' a fare cose vostre. E spettacoliamo un po' su Sulani. E poi conversiamo sul cibo. Della struttura dei sapori. Buono però come si mangia qui sull'isola, eh? Sì. Direi proprio di sì. Sono felicissima di beccare ogni tanto le feste. Pensate, quando avevo installato l'espansione all'inizio, non le beccavo mai. Invece, ultimamente, ogni volta che vengo a Sulani, becco una festa. Forse ci faccio più caso, perché vengo appunto a dare un'occhiatina qui. Lei è rimasta... Ah sì, lei poi mi aveva trovato una conchiglia, mentre si tacciava la spiaggia e basta. E poi, vabbè, hanno bisogno comunque di tornare a casa. Però, dopo aver mangiato, io vorrei farmi un abbraccio qui intorno al falò. Hanno anche completato l'obiettivo di oggi, che poi è facilissimo, perché apposta ho messo soltanto un'opzione. E questo ci porterà punti capriccio. Bravi, bravi, alimentate il fuocherello. Lui è finito. Lei anche ha finito, abbracciatevi. Sapori ispirato... Amori! Discutendo della struttura dei sapori di un piatto recente, nasce una serie di idee e pensieri per affinare le ricette di Daisy. Fiamme flertante, un fuoco accogliente, un simson, tutto quello che serve per accendere il cuore. Oh, eccoli qua. Bravi, toglietemi. Oddio! Oddio! Si era bruciacchiato un piede? Ovviamente si devono mettere vicini, ma io ho cercato di fare una fotina e va bene. Ok, bravi, andate via. Guardate che bello. Perfetto, dai. Oddio, mezzanotte? Si, torniamo a casa. Tanto ci siamo divertiti. Abbiamo anche assaggiato il cibo dell'isola. Va bene. Complimenti, voi sempre a far festa, a far sempre cose carine. Tutti hanno bisogno del bagno, quindi vai in bagno, tu intanto ti fai la doccia, una doccia veloce. Poi, per lavoro devi fare il giardinaggio, quindi vendiamo tutto. È cresciuto anche il ciliegio. Poi ci piantiamo l'ananas, qua, il taro. Qui sto mettendo le piante un po' così particolari, come vedete i fagioli di soia, le metto qua. Pianta. Anche la conchiglia me la conservo, magari ce la mettiamo qui sul comodino. Ah, il cocco! C'è anche il cocco come pianta. Vieni, vieni, il bagno è libero, ti fai una doccia fredda e poi torna a dormire, perché lui per lavoro ha fatto tutto. Lei si fa questo, in modo che continua ad andare avanti con il giardinaggio. Guadagniamo soldini, anche perché ragazzi il prossimo obiettivo qui, a parte gli scherzi, è alzare una stanza, cioè creare una stanza. Perché finché io non riesco a creare una cameretta, comunque non posso dar vita a una seconda generazione. Quindi noi cerchiamo di mettere da parte i soldini, anche se io, come vi ho detto la scorsa volta, la scorsa volta, appena ho dei soldi e so che mi servono delle cose, comunque le acquisto, ovvio. Ma semplicemente perché so che poi, soprattutto grazie al giardinaggio, si guadagna man mano, cioè è una cosa veramente veloce. Innaffia tutto e a nanna, perché si è fatto molto tardi. Se non ricordo male, oggi è il giorno degli ignomi, sì. Io questi ignometti li adoro. Ovviamente bisogna stare attenti perché se li facciamo arrabbiare rompono tutto, è vero. Però è vero che invece, se noi riusciamo ad accontentarli, ci lasciano miliardi di semi. E questo sarà molto utile al nostro scopo. Ok, facciamo mattina presto. Tra poco arrivano, eccoli, sono arrivati. Allora, intanto lui lo accontenti, in genere io riesco con caffè e torta. Ah, ma sono uguali, hanno tutti e tre con la scatola. Allora, con lui proviamo il caffè. Eh, ecco qua. Abbiamo già toppato alla grande. Implora perdono. Molto bene. Allora, invece, lui gli diamo la torta. Lavoriamo da casa semplicemente perché, appunto, continuiamo a vedere questi ignomi. L'ultimo lo fa lei. Vedete? Già iniziano a lasciarci i pacchetti. Allora, chi ha preso la promozione? Lui. Quindi anche lui ha avuto i fiori base. Sì, i fiori base ed è a livello di lei. I tulipani! Che meraviglia! Ok. Abbiamo riempito anche le file dei fiori. Comunque, pianta i tulipani. C'è altro da vendere. Vendi tutto. Anche perché oggi è comunque il giorno del giardinaggio. Quindi approfittiamo. Lei. Ok. E a lui gli dai un giocattolo. Quindi, con la torta è andata bene. Vediamo con il giocattolo. Perfetto. Poi ti fai una doccia. E facciamo una bella colazione con la frutta. Anche tu quando avrai finito, sì, fai colazione. Anzi, anzi. Vieni qua perché finché ci stanno i limoni, approfitta perché poi è finita l'estate, se non mi sbaglio. Allora, il limone sempre esce. Comunque, c'è anche il ciliegio. Forse lì non me lo dice perché non è il mio lotto. Allora, il ciliegio è soltanto in estate, ma il limone io qui è di stagione. E dai, cresci. Intanto lo raccoglie lì. E allora, cosa devi fare? Conseguire, perfetto. E conseguire il livello 3 di giardinaggio. Giardinaggio, ci sei quasi. Qui c'è il bonsai, ma a questo punto il bonsai lo faccio curare sempre a lei in modo che mi aumenta anche la composizione floreale. Ah, lei deve fare... Eh no, cose diverse. Setacciatore di suoli, setacciatore di ciliegio. Ok, lei deve fare una ricerca sul giardinaggio e va bene. Quindi prima mi dà la forma, poi indossa la tuta e andiamo ad applicare la terapia. A lei mangia e dà la forma. Molto bene. Questo è il libro. Poi, oh, aspettate che qui bisogna pagare la bolletta. Sì, tanti soldini li abbiamo. Vendiamo anche i limoni e le ciliegie. Guardate le ciliegie. Tanto le abbiamo lì dietro casa. Quindi va bene. Stavo pensando, visto che vi ho menzionato l'altra volta sempre, che mi piacerebbe entrare in un club, ma ancora non ci hanno chiamato. Il club in questione, forse l'avete già capito, comunque è proprio gli ignomi da giardino. La natura è dovunque intorno a te. Vai a esplorarla. Se ami le escursioni, la pesca, il giardinaggio, forse anche tu sei un ignomo da giardino. I membri sarebbero Moira, che è proprio la regina del club. Poi c'è Mila, con il suo figlio minore, l'unico che la segue, che ama fare queste cose con la mamma, perché gli altri due figli no. Non se la calcolano proprio. E poi c'è Nancy Hannigan. In realtà questa qui è una semina, cioè è una coppia con una bambina, quindi una famiglia che crea Io e che avviene anche Moira il sabotaggio e vive a Willow Creek. Come attività c'è da cercare le rane, fare il giardinaggio e pescare. Magari questo lo faccio più tardi, perché adesso volevo un attimo dedicarmi a fare queste cose. E magari quindi facciamo noi la richiesta di entrare in un club ed anche una scusa per continuare a fare amicizia. Ok. Quindi tu hai fatto. Vediamo un po'. Fai anche tu una ricerca, perché tanto comunque aumenta il giardinaggio. Non fa mai male. Lei si è messa la tuta. Allora, applica la terapia. In questo caso mi vendo il miele, perché tanto la qualità è ancora scadente. e raccogliamo, vedete, la cera delle api, totalmente gratuita. Questo me lo metto nell'inventario, perché comunque quel club si raduna al giardino comunitario. Visto che andiamo lì, ricicliamo e a questo punto riproverò a fare mercatino. Visto che ho i soldi, mi compro io un banchetto. Vendi il miele. Quanta cera abbiamo preso? Una, perché una già ce l'avevo. Ok. Poi, ti rimuovi. Vedete, ci abbiamo fatto anche i 36 simole. E stringi il legame. Ok. E vieni a farmi una bella ricerca. Fa pure le foto. Fai un'altra ricerca, per favore. Anche tu. Perfetto. Quindi adesso possiamo anche fertilizzare le piante. Intanto, questi bei gnomini. Io non mi allontano dall'otto, soltanto per gli gnomi, perché se mi muovo mi perdo i pacchetti. Quindi finché me ne danno un bel po', come dire, io resto e poi ce ne andiamo. Bravissima anche lei. E perché non me lo dà? Ah no, serve il computer! Non sulla pianta! Non ce l'ho il computer! Vabbè. Allora, vediamo intanto quanto costa il banchetto per la vendita. Attività e abilità. C'è questo di Selva Dolada che sa 300, questo 400 e questo 400. Questo è molto artigianale. Come il banchetto. Carino. Molto carino. Mi piace tanto perché c'è il legno con il verde. Allora, controlliamo. Visualizza l'inventario. Perfetto. Funziona. Mettiamocelo nell'inventario. Funziona. Serve il computer. Vabbè, allora, come... Oh, che carina questa forma! Come livello, in composizioni florali stai a 3. In elvoristeria stai a 1. Quindi andiamo almeno a livello 2. Qui c'è un altro pacchetto. E questi qua poi li apro tutti quanti dopo, eh. Giusto per rendermi conto di quanti mi stanno lasciando. Tantissimi! Ovviamente, la cosa figa è che i doppioni... Ma che è successo qua? I doppioni comunque ci servono per farci i fiori. Dobbiamo fare le composizioni florali. Il resto me li vendo. Quelli che ho già piantato, ho già piantato. E va bene così. Lui deve andare in bagno. Ok. Livello 2. E anche l'una. Oppure lei deve andare in bagno. Quindi li mando in bagno e... A questo punto... Dai, i pacchetti sono un bel po'. Chiediamo di entrare nel club. Ovviamente io li farò entrare entrambi. Il club Gnomi da Giardino ti dà il benvenuto. Sono felice che tu abbia deciso di essere dei nostri. Stiamo tenendo un raduno del club. E ci piacerebbe molto che ti presentassi al gruppo. Andremo tutti qui al community garden. Cercheremo di rendere i nostri pollici un po' più verdi. Coraggio! Vuoi venire? Sì, certo. Andiamo, dai! Eccoci qua! Allora, noi in teoria... Ah, siamo già entrati, sì. E... Ok. Io stessa ho potuto aggiungere anche Marlon. Quindi, porta qui Marlon. Riproviamo. Vediamo un po' se funziona questo. No. Vabbè. Ci mettiamo il nostro. Tolgo questo. Se non va, vorrà dire che lo faremo da casa nostra. Che c'è qualcosa che non va. Cioè, se non va... Ah, no. Va. Ecco, stavo dicendo che avrei fatto i mercatini da casa a questo punto. Quindi, riempi il tavolo. Tu portali tutti quanti qua. Occupati del tavolo. Aumentiamo i prezzi del 200%. Perché le statuine non costano tanto. Costano sui 20 simoleon. E inizia la vendita. Ok. Aspetta! Cosa stai piantando? Questa? Ah, ok. Ce l'ho la Dalia. Che bello. Adesso renderanno attivo il giardino. Comunque... Convinci di divertirsi. Discutiamo su queste prime impressioni del club. Che ci piace tanto. Rallegramo Mila. Che cos'è? L'erba matta. Acquistala. La camomilla. Allora, non voglio comprare in questo caso piante che troverei a Grindfords. Perché lì poi ci andremo e sarà bellissimo trovarci da sole. Non so bene cosa pensate del club. Penso che la gente piaccia la direzione che ha preso? Ma penso di sì. Non essere così rigida con te stessa, Moira. Imparala a conoscere. Impariamo a conoscerci tutti. È stato un piacere fare affari con voi. Guardate chi c'è. Chi ha amato Parenthood se la ricorderà benissimo. Gracie Loverland. Amore. Poi, io qui... Non penso che riuscirò mai a raccogliere il biocombustibile. Boh. Intanto loro li coltivano. Cioè, gli accudiscono questi insetti. Poi... Chiediamo che lavoro fa. Complimenti. Ci complimentiamo per il club. E... Coinquilina. Ah no. Club... Parliamo del club. Moira è come noi. È una giardiniera. Perfetto. Se non mi sbaglio lei, Mila, chiama da te, è una chef. Qui che altro c'è? Ecco. Questa, per esempio, è la bacca celebrina. Si trova a... Selva Dorada. Questa è la foglia a fuoco? No. Bucaneve sicuro sarà uscita anche dai nostri pacchettini che ci hanno lasciato... Sono il leader. Per me è fenomenale, certo. Che ci hanno lasciato gli ignomi. Ma guardate quante piante! L'aconito. Questa è una pianta uscita con vampiri. E questa invece con regno della magia. Noi prendiamo tutto. Veramente anche questi sarebbero fighi. Gli ago aggiornamenti. Costano 50. Le celebrità comunque vengono spesso qui, eh. Guardate Moira! È una fan! Gli ago aggiornamenti sarebbero utili proprio per... Le bollette. Però... Vabbè. Lui parla con il bambino! Ragazzi! Mi sa che Marlon desidera largare famiglia, eh. Guarda! Cioè, ha cercato un bambino! Tempo al tempo, Marlon! Davvero! Ma dove stai andando? Lasciala perdere! Non ce la posso fare, davvero. Che cos'è? Il cubetto di finta carne essiccata! Anche questo hanno messo. Da questa parte niente. Dai, non volevo fai tardi qua. Voglio tornare a casa dagli gnomini. Su! Forse è troppo il 200%. Facciamo il 100%? Mamma mia! Questi sono gli scalapeh bombardieri. Non ci ho mai giocato? Ok. Noi stiamo acquistando. Va bene. Ma sapete che faccio? Io pianto. Anche qui. Visto che ho doppioni. E visto che tanto il giardinaggio ci serve. Io il giardino comunitario lo lascerò fisso. Non è che vengo a cambiarlo. Pianto. E vediamo, quando poi ci ritorno, se le cose qui vanno avanti e potrò raccogliere. Pianta. Questo ce l'ho messo io. I fagioli già ce li abbiamo. Pianta di soia. Sì. Ferma. Ferma. Fagiolino non ce l'abbiamo. Grazie. Vai, Samme. Dacci qualcos'altro. Pianta, pianta. La patata ce l'abbiamo. Dacci un pomodoro, una carota, una cipolla. Qualcos'altro. Ma oggi è proprio giornata di piante. Pronuncia un discorso da venditori. Dai, attira un po' di gente. Ma subito finisce. No, due ore e mezza. Non vorrei che ci fosse un bug. Se no, ripeto. Fermi la carota. Lo facciamo a casa nostra, il mercatino. Aspettate, blocco la signora. Reimposto. Perché non posso prenderla, la carota? Ah, perché lei forse sta piantando? Fermati. Fermati tu. Oddio, mi è sparita la carota. No. È sparita. Vabbè, fertilizza. Il croco. Grazie. Questo? Lo spinaccio. Marlo. No, qui c'è troppa distrazione. No, non ci riesce. Non ci riesce proprio. Questo ce l'abbiamo. La Dalia. Cubetto di finta carne. Occupati del tavolo. Pronuncio un discorso. Pronuncio un discorso. L'uva. Anche se ce l'abbiamo, me la riprendo. La cipolla. Ma che gioie. Oggi sto avendo gioie. Davvero. E... Che schifo. Pianta. Continuo a fertilizzare. Con la mora. Dico a niente. Non avete altri tesori? Le fragole le abbiamo. Ma quanti cubetti di carne? Solo che vedete, non posso piantarli. La rosa ce l'ho. Il crisantemo ce l'ho. Il croco l'abbiamo appena preso. Fermi. Fermi. Il pomodoro. Lo voglio. No. No, perché scompare? Ripetetemi il pomodoro. Adesso. E... Aspettate un attimo. Fatemi vedere una cosa. Ecco. Si aumentano appunto i punti del club. Così un domani mettono l'abilità di giardinaggio. Insomma, le abilità che me le fanno fare più velocemente. La carota. Oh. Adesso mi date il pomodoro? Bucaneve no. Non so se vi ho detto negli episodi scorsi o se l'avete già visto. Comunque, sia casa loro, casa dei Robinson, proprio il cottage starter, che è questo giardino comunitario, lo trovate nella mia galleria. Tutte le mie cose le trovate in descrizione. Comunque, comunque, mi trovate sotto Eli underscore Ricciolina. Oppure, hashtag CarlyNcurus. Ragazzi, io direi basta. Dai, vi ho preso un sacco di cose. Vediamo un po'. Che cos'è questo? La radice di cava. Però io l'ho presa. L'avevo anche piantata, di sulani. Qui niente. Me l'ho dato un pomodoro. Qua niente. Vediamo Moira che altro ci dà. No, lei sta piantando questo. Questo. C'è una ricerca intanto. Oddio, Bess. Vorresti sembrare felice quanto me? Beh, la scelta è tua. Basta che vi faccia avere un simbolo. Non esitare. Il prezzo della felicità è di appena un simbolo. Riattacca. Perché lei è una truffaldina, come si dice. Che poi cosa rimettete a fare questi cubetti di carne, se poi nessuno li può piantare. Sapete cosa? Me li prendo. Tanto per piatti vegetariani. Sono perfette. Come se sarebbe il tofu? Carne finta, no? Me li prendo io, così facciamo spazio. Per cose nuove. A te 5 minuti. E me li vado. Hanno comprato! Era ora! Grazie! Grazie! Mamma mia! Tutte queste persone... Pensavo di fare più affari. Però gli affari li ho fatti qui, con la raccolta. Fermi tutti! Ma qui... Ah, ok. La morchella no, tanto la troviamo a granite. Io, ragazzi, i fagioli di soia ne pianto più di uno. Perché appunto per le candele serve la cira di soia. Quindi più ne abbiamo, meglio è. Ma anche per le bibite. Perché con i fagioli di soia, noi possiamo fare la sgasata. Che è una particolare bevanda. Ok, 8 e mezza. Basta così. Qua è finito. Liberati il tavolo. Tu la ricerca la devi fare al computer. E devo fare perché così, ragazzi, prendiamo la promozione. e mettiamo l'inventario. E ci serve. Magari lui se ne va a casa. E noi... Ah, devo sciogliere la seduta qui. Termina il raduno. E noi ce ne andiamo un attimo in biblioteca. A usufruire il computer. Ovviamente userò la biblioteca di Windenburg. Ah, adoro. Eccola qua, l'antica biblioteca. Ok, un computer è da questa parte. Quindi ti siedi e andiamo su internet a fare una ricerca sul giardinaggio. Poi, noi possiamo già scrivere consigli di giardinaggio nel blog. Molto bella questa cosa perché poi domani sbloccheremo anche quella inerente ai fiori. Che questa però dà solo fama. Non ricordo se però aumenta anche il giardinaggio. Tu prenditi cura di te. Così almeno non ti trovo rovinato. Ok. Che poi, vedete che bello con le carriere semiattive. Ogni volta che ci chiedono di fare delle cose. Comunque percepiamo dei soldini. È ottimo. È eseguito una ricerca sul giardinaggio. Con le tecniche di giardinaggio appena scoperte da Desi, la pratica non farà altro che migliorare i risultati. E infatti lei tutto quello che impara lo consiglia anche sul suo blog. Però, no, mi dà la scrittura. Fatemi vedere una cosa. Giardinaggio, sta a 78. No. Dà solo la scrittura. E qui, lettura sconvolgente. Sdegno per aver letto un articolo supponente. Ma l'hai scritto tu? Vabbè. Comunque, andiamocene a casa. Eccoci qui. Allora, gli ignomi, come vedete, giustamente se io me ne vado, si fermano. Appunto. Però, tanto loro restano fino alle 2. Indossa la tuta. Vendiamo il miele. Lui, veramente sta bene anche se ha sonno. Per l'indomani, sì, abbiamo fatto tutto. Diventeranno spargitori di semi. Vai a dormire. E anche lei va a dormire. Abbiamo fatto oggi una bellissima raccolta. Questo, sì, io questo lo metto direttamente in frigo. E vi faccio vedere che appunto sblocca dei piatti come questo. Il ramen di manzo. Quindi si può usare la finta carne. E basta. Per adesso, perché lei è livello 2 di cucina, ma ci sono anche altre ricette. Fatti una doccia. E a dormire. Quindi, oggi è stata una giornata dedicata agli ignomi. Sì, ma devi toglierti la tuta. Ecco, brava. Vai a dormire. Oggi è stata una giornata dedicata agli ignomi. Io poi, ecco, l'unica cosa che magari farò fuori registrazione è continuare a ingrandire il giardino piantando le nuove cose. E niente, perché poi... Uh, c'è la notte brava. Cibo e bevande gratis. Direi che questi due si meritano il fatto anche di godersi una serata fuori, di festeggiare. E poi, perché no, è gratis. Quindi, io approfitterei. Non è una tradizione, una festività anzi, che esce spesso. Quindi, approfitto. E poi c'è il ferragosto, quindi la fine dell'estate. La prossima volta, ecco, ci godremo questi due giorni. Tanto loro lavorano, però con il fatto che, anzi no, oggi sono liberi. Però, ecco, domani sabato lavorano, quindi con il fatto che lavorano da casa, noi possiamo continuare a festeggiare e stare in loro compagnia e continuare a fare le cose. Quindi, io vi lascio così con questo episodio. Ci vediamo la prossima volta. Tanti mi piace e commentini. Ciao! Ciao!